Si prepara in soli 15 minuti ed è perfetto per chi soprattutto in estate non vuole stare troppo davanti ai fornelli. Prepariamole insieme, linguine, zucchine e gamberi. Un primo fresco e saporito che sa di mare. Inizia cuocendo le linguine in acqua salata bollente. Questa ricetta si prepara nel tempo di cottura della pasta. Belli puliti. Prima di andare avanti non dimenticare di cliccare su iscriviti così non ti perdi le nostre ricette semplici e super sfiziose. Un bel giro d'olio e fai soffriggere uno spicchio d'aglio. Se non ti piace l'aglio in alternativa devi usare lo scalogno viene buono lo stesso. Aggiungi le zucchine tagliate a fettine e falle cuocere a fuoco medio per 2-3 minuti. Adesso aggiungi i gamberi facendoli scottare leggermente. Ricorda che cuocerli tanto li rende gommosi. Aggiustiamo di sale e pepe e spegniamo il fuoco. Io ci aggiungo il prezzemolo ma il basilico ci va bene lo stesso. Quando la pasta sarà al dente aggiungila direttamente nel condimento e conserva un po' d'acqua di cottura per mantecare. Invece se hai un po' più di tempo puoi anche fare un bel fumetto di pesce usando i carapaci e lo metti a posto dell'acqua di cottura. Verrà saporitissimo. Delizioso! E tu come preferisci farlo? Con la pasta lunga o con la pasta corta? Fammelo sapere nei commenti. Alla prossima! Ciao!